Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Riammi le like, condividete il video e iscrivetevi al canale del segnale Lascia l'hashtag Brawl Stars con sottotitoli commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Oggi, sopra Twitter, sopra Instagram, sopra tutte le pagine di Brawl Stars E' stata messa questa immagine interessantissima Che dovrebbe annunciare l'imminente Brawl Talk di Brawl Stars Quindi vuol dire l'annuncio anche del prossimo aggiornamento e dei suoi contenuti Molti stanno vociferando su Twitter che ci sarà sicuramente anche un cambiamento di ambientazione Anche perché di solito quando fanno queste immaginine in questa maniera Servono a indicare dei cambiamenti massicci ragazzi Allora vi voglio far vedere anche un'altra immagine mandata su Twitter Che conferma al 100% che ci sarà un Brawl Talk molto presto Ragazzi, questa immagine è stata postata su Twitter Quello, chi è? Lo sapete tutti ragazzi E' Airlight o Relight Che si è attravestito da Mortis, dalla creatura della notte E c'è il green screen dietro Quindi c'è solo un motivo per essere così Il Brawl Talk sarà veramente simpatico E saranno anche attravestiti probabilmente Forse solo lui, chi lo sa Visto che siamo a tema Mortis Morduchino entra nelle random a raffa gemme col mortissino Dai è così ragazzi Oggi ho fatto al contrario Visto che già avete visto il video di oggi Questo è un video in più Quindi assolutamente voglio darvi questa Bella notizia Che il Brawl Talk sta per uscire Non si sa come, non si sa quando Ma molto molto presto Nei prossimi giorni Già stiamo vincendo malamente Per questo From Belhours Sta facendo magie Io vorrei provare a esagerare Ce l'ho pure fatta Non so in che maniera E questo ragazzo Ce l'andiamo a prendere E! Ciaoone Io me do Sto facendo il Mortis prendi gemme Olle E' anche un Daryl che potrebbe farmi Il Daryl rompiscatole Però va bene Allora c'ho paura del Dynamite Più che altro in questo momento Potevo mettermi la super giusta Invece non l'ho fatto Ok mi sono salvato Ho pochissima vita No si è fatto colpi male Oh Ottima situazione Vai così E Ti piacerebbe Piamme col bombone Proprio Due volte Ok sto facendo il mio compito Da Mortis Uh Tu lo sei attuffato De cattiveria Ti piace Vittoria E io in pratica Non ho fatto niente Solo ho raccolto gemme Io sono qui Vai 10 Guarda sto di qua Guarda 10 Guarda sto di qua Guarda Eccomi Eccomi sono qui Ma perché combattere contro Il loro sonico Quello che ho 6 gemme Guardami Ciaoone Che bellezza 12 a 0 Morduchino che fa lo scarso Col Mortis Riesce pure a vince Wow A parte che c'avevamo Quel tizio Boo Che era bravissimo Qualcuno mi spara Non so perché E Attepe C'erebbe Guardalo Guardalo Una bomba me l'ha presa Però eh Una bomba me è arrivata Regà Ok Dammela a me la gemma Grazie Dammela a me la gemma Ho detto dammela a me Grazie Le prendo tutte io Dai Faccio il porta gemme Su Fatemi fare il porta gemme A me che sono Mortis Dai Voi andate a divertirvi Lada avanti Fate i bravi bambini Giocate Gli amichetti Oh mi ha preso Caci tui Mi ha ripreso Oh fuggi Ok mi sono salvato Ci ho quattro gemmi ne io Oh Pregate Bella bambler Fai il tuo dovere Io faccio il mio Io faccio il prendi gemme Oh le Eh 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 Ho sbagliato però Non dovevo Ho esagerato Ho rischiato male Però li ho abbassati Brutto brutto Eh Ok Aia Ma ho preso Non me l'aspettavo Regà Ok sto a 6 Senza troppi problemi logistici Grazie Oh Ho fatto uno zonpo Che non dovevo E non so come ho fatto Oh le Non ti ho eliminato Peccato Però l'ho fatto Inditeggiare pesantemente Vai Io sto facendo il mio dovere Continuate a giocare Sì Avete proprio sbagliato Come funziona Sto gioco Mi sa Allora Facciamo un po' di cover Anzi Lasciamoli perde Vattene bambler Ti prego Bambler date E niente Bambler non si è dato Bambler Ha rischiato di farci perdere Oh Uh Aia No Sono scemo io Aiuto Dammi na ma Dammi na ma Ok Facciamo il giro di qua Sono nascosto Nessuno mi vede Sono un mortis fuggitivo Ah 13 a zeno Ah Fate da un piccolo Guarda dove sto Che bellezze Andiamo a farci un'altra partitina ragazzi Due vittorie alla grande Da Non credere Like a boss PT Allora Morduk è scarso con il mortis Lo sapete tutti Eh Che devi fare Ci hanno provato eh I ragazzotti Ci hanno provato No mi sono sbagliato Ma io pensavo fosse il nostro Ma il nostro che sta a fare Eh È stata l'altra parte Ok Siamo pronti a ripartire Il carletto Sarebbe veramente Da prendere a schiaffetti Eh Non me lo faranno mai Ah Allora M'hanno massacrato Regà Che dico Stanno devastando Malissimo Eh 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 Non t'ho ucciso No Dai Bastava un attacco Ok È morto dei mortali Dai Bastava un attacco Sole C'è la super carica Quanto sono per lotto Ok Il nostro like a boss Ha fatto qualche magia Finalmente Ho deciso di svegliarsi Oh No Peccato Niente La mia super non è bastata Ho tentato ragazzi Ho tentato Ma sono scherzo Ma non è partita Guardate Ce l'ho di nuovo carica Ho attaccato tutti E ci sono riuscito Allora Scusami eh Ai aiuto Dove morire Dove morire ma Uuu Uuu Incisione Uuu No Si è salvato Tu non ti salverai No Che cosa ho fatto ragazzi Ho cliccato qualcosa Che non dovevo Ehi sono qui Ehi sono qui Prendimi Prendimi Ti ho detto Uuu Vittoria Cattivissimi E dopo queste belle partite E dopo aver saputo Che ci sarà il Brawl Talk A giorni Probabilmente Tra stasera E domani Perché quando fanno Quest'annuncio Vuol dire che manca Veramente pochissimo Vi saluto Con questa immagine Del bellissimo Signore della notte Relight Oppure Dani Ragazzi Secondo voi chi è Dani o Relight Dietro a quella maschera Lo scopriremo domani Comunque Arriviamo a 1000 like Condividere il video Iscrivetevi al canale Se non lasciate l'hashtag Brawl Stars Questa sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E hashtag Brawl Talk Assolutamente Grazie 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 Grazie